Questo dossier vuole aiutare a capire che cosa significa essere bambino a Napoli, una città di 2 milioni e mezzo di abitanti, un terzo di essi ha meno di 15 anni. L'esperienza sulla strada comincia a 2-3 anni, a 9 anni giocano in un biliardo pubblico fra ladri e contrabbandieri, già scommettono 10.000 lire a partita e così cresce nel bambino un modello di vita imbastito di espedienti, intrallazzi, illegalità che hanno per fine la sopravvivenza, il denaro. Tu sai leggere e scrivere? No. Non sai né leggere né scrivere? No. Ma non sei mai andato a scuola? No. Mai? Mai. E nessuno ti ha detto mai di andarci? Come? Papà. Papà? E tu, nonostante te l'abbia detto, non sei andato? Ogni giorno filone. Fai filone, non ci vai. Ma ci hai mai provato? Come? A scrivere? Ad andare in una scuola, imparare a scrivere e a leggere? Tre bote c'è, tre bote. Tre giorni ci hai provato? Tutto l'anno niente più. Sì, preferisci borseggiare, fare questa vita di strada? Ma non è una vita bella, te ne rendi conto? Eh? No. Non potresti cambiare? Come? Ah, dire cominciare a lavorare, cominciare a imparare a scrivere e leggere. A me nessuno mi piace di affaticare. Perché? Lo sanno tutti che sono un marion. Lo sanno tutti? Che sono un marion. Sanno già tutti che sei un ladro. Un ladro. E quindi non ti prendono a lavorare. Come ti dicono? Ti pagano in barro? Dicono no, ma loro non dicono che tu sei un marion. Dicono no, io già capisco. Ma non te lo dicono chiaramente, ma tu già li capisci. Tu ti ritieni quindi già giudicato, considerato un ladro? E non ti dispiace questo? Di fare che? Di essere considerato un ladro? No. Perché? Non è una cosa antipatica, non bella. Non mai già evitami questo. Ma che lavoro fai tu? Balestrare. Non ho capito. Balestrare? Rimpare le balestre? Sì. E dove hai imparato? Qui. Quanti anni sono che lavoro? Eh, c'è un anno. Quanti anni hai? 12 anni. Oh, posto in genere? Domenico. Ti piace questo lavoro? Sì. Quale altro lavoro hai fatto? Eh, il barrista, il meccanico. Questo ti piace di più? Sì. Perché guadagni di più o perché è più bello il lavoro? Eh, perché imparagli il mestiere, no? E' più bello il mestiere, no? Quanti siete in famiglia? Undici. Con papà e mamma o solo undici figli? Eh, undici figli. Mio padre è una sola. Non c'è? Dov'è? È morto. È morto? È morto? E lavorano gli altri fratelli? Sì, uno solo. Sì, uno solo e io e l'altro. L'altro cosa hai fatto? Stai in carcere. Quanti anni hai? Vent'a. Voi mai vanno in carcere. Ti ricordi qualcosa della scuola? Ti hanno mai bocciato? Sì, due volte. Stai in bocciato due volte. Perché ti hanno bocciato? Eh, ne facevano anche il ghiassano. Allora la signorina diceva io vi faccio bocciare. E ci riuscite? Eh. Tanto ho fatto che ci riuscite. Sì. Sarà contenta adesso, eh? Sì, due volte. Mi trova una bella, innamorata. Ora paese, bella, gentile, amabile, cortese. Gira e giro, amore, posso tornare a casa. Dovina, andovinella, andovina tua città. L'accia trovata, sta innamorata. L'accia trovata, appascia, marghiare. E' nata, marghiare. Stica, san, marghiare. Stica, san, marghiare. E' nata, marghiare. E' nata, marghiare. Andato, andovine. E' nata, marghiare.